Andiamo a collegarci invece con Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Sanità. Buonasera Vice Ministro, dove sta? Eccolo qua. È già tornato al lavoro? Io sono operativo, sì, oggi sono tornato al lavoro. Primo giorno oggi? No, no, no. Nemmeno me lo ricordo, le dico la verità, ma sono tornato già dalla scorsa settimana, quindi saranno quattro giorni ormai che sono operativo. Quindi perfettamente guarito, possiamo dire, no? Beh, come diceva il professore Galli, due tamponi negativi a distanza di 24 ore dovrebbero rendere me non più contagiabile, guarito. Ho fatto anche il test per fare una prova, non io, ma per farlo fare all'università. Pare che abbia anche gli anticorpi, quindi ormai credo che sia passata così. Senta, ma ce l'ha detto l'altra volta che aveva perso il gusto, l'olfatto e il gusto. Non aveva più questi due sensi, li ritrovati o no? Li ho ritrovati parzialmente, quindi immagino che progressivamente tornerà tutto normale. Che sarà molto più lungo di quei 15 giorni che tutti ci aspettiamo. Professor Sile, viceministro, lei che è d'accordo con Galli? Cioè si sta un po' correndo troppo, forse? Adesso tutti si sono fatti l'idea che magari non subito, ma tra un mese si può ricominciare a vivere come facevamo precedentemente. Allora, sicuramente usciremo da questa situazione, questo è inevitabile. La tempistica è ovviamente non prevedibile oggi, è per questo che vi sarà un allungamento di queste restrizioni e l'andamento che vedremo nei prossimi giorni ci dirà e ci guiderà. È chiaro che poi un ritorno dovrà esserci in maniera anche progressiva perché il virus, dobbiamo aspettare che circoli molto meno e non mettere a rischio e ricominciare da capo con la lotta contro questo nemico invisibile. Quindi dobbiamo continuare a osservare, i dati che abbiamo sicuramente ci danno ottimismo. Ovviamente non la mortalità ancora, ma è chiaro purtroppo che chi muore oggi è qualcuno che si è infettato diversi giorni fa e quindi io credo che già dalla prossima settimana con il calo dei contagi grazie a Dio calerà anche il numero di coloro che muoiono. Lei che dice, Vice Ministro? Condivide? Sono pienamente d'accordo perché... Oh, ma tutti d'accordo stasera, eh? Non potrei essere altrimenti, ma significherebbe il fallimento delle misure che abbiamo preso. È chiaro che qualcuno inconsapevole che si è spostato dal nord al sud c'è stato ma molti si sono quarantenati, quindi il peggior danno che possono aver fatto è stato contagiare qualcuno a casa, quindi si tratta di piccoli nuclei sicuramente nulla sovrapponibile a ciò che abbiamo visto in altre aree del nord Vedi Alzano, Vedi Codogno e via dicendo. Quindi sicuramente l'ondata, lo tsunami, così come lo abbiamo osservato in Lombardia nelle regioni di Mitrofe, a mio avviso nel centro-sud non ci sarà. Ecco, prima abbiamo parlato col professor Galli e con Luca Zaia che insomma ne ha fatti molti nella sua regione perché poi dipende molto dalla scelta, la sanità è molto legata naturalmente al governatore di quella regione, al tipo di politica che decide di esercitare ma ce ne sono tante altre in cui, lei lo sa perché ne abbiamo parlato tante volte è un po' la mia fissazione perché penso che sia invece molto importante poter poi sottoporre a questo esame la maggior parte della popolazione perlomeno quella sintomatica perché almeno sappiamo cosa c'ha non va in giro ad infettare e soprattutto vi chiedo a tutte e due ma è anche meglio intervenire quando i sintomi sono iniziali così evitiamo magari di degenerare, arrivare in ospedale quando si è in condizioni disperate ma perché non si può progettare, come per le mascherine che ce ne sono state poche, adesso alcuni ci hanno detto che ne arriveranno tantissime, che ne sono state ordinate mi pare 39 milioni se non sbaglio perché non si può progettare di investire sul tampone che nel futuro sarà sempre più utile per salvare le vite e per individuare chi appunto è portatore di questa malattia vado io al professor Galli? no no, lei, lei, perché il professor Galli già ce l'ha detto che lui è molto favorevole io sono favorevole ai tamponi ovviamente devono avere una resa molto alta cioè significa che deve esserci un qualcuno che individua bene a chi fare il tampone perché vede, lei può fare il tampone oggi e avere già il virus nella fase veramente iniziale cioè si è contagiata, oggi il suo tampone sarà negativo quindi deve aspettare qualche giorno io parlo dei sintomatici perlomeno ai sintomatici i sintomatici devono tutti fare il tampone e le dirò di più e non lo fa nessuno glielo dico ma non perché non vogliono, perché non glielo fanno dottoressa, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa dei problemi, del numero di laboratori sappiamo quali sono state le carenze ma vede il numero di tamponi crescente che si osserva ogni giorno dimostra che si sta lentamente a mio avviso, è lenta la cosa ma sicuramente si sta provvedendo a trovare una soluzione e garantire più tamponi a quante più persone possibili ma ho anche sentito dire che bisognerebbe fare i tamponi a 60 milioni di italiani questo è sbagliato, assolutamente no i tamponi devono essere guidati e ripeto, serve un medico competente perché a volte dire il paziente è asintomatico il medico scavando nell'anamnesi e chiedendo bene a volte individua quel sintomo che magari è trascurato dal paziente ma diventa un sintomo che fa luce sulla malattia però qui purtroppo il problema è l'opposto con i sintomatici non arrivano i tamponi cioè in questo momento chiunque telefona dicendo c'ho la febbre, c'ho la tosse dovrebbe essere sottoposto a tampone senza aspettare di vedere se poi sviluppa la malattia perché così almeno lo sappiamo subito e provvediamo pienamente d'accordo Ministro Sileri secondo lei entro quanto si potrà immaginare di non dico tornare alla normalità ma di uscire un po' da questa quarantena in cui tutti ci siamo messi giustamente naturalmente per cercare di contenere i contagi le rispondo in una forma un po' bivalente sono d'accordo con il professore Galli che è impossibile fare una previsione adesso però auspicabilmente anche con ottimismo anche guardando i numeri e quindi parlo adesso più da politico che da medico secondo me dopo Pasqua possiamo incominciare a pensare a questa cosa quindi però è chiaro che dobbiamo attendere i dati di questa settimana e la prossima settimana quindi con l'auspicio che vi sia un calo significativo e che quindi inizi una curva che precipiti verso il basso Bene grazie al Vice Ministro Pierpaolo Sileri Grazie a tutti Grazie a tutti